Buongiorno a tutti, eccomi tornata in un nuovo video. Sono qui in cucina perché oggi andiamo a preparare una ricetta insieme. Ieri sera ero al computer su YouTube e tra i video consigliati mi è apparso il video della ricetta dedicata ai pancakes giapponesi che non ho mai provato. È una ricetta di fatto in casa da Benedetta e ho visto tutto il video e mi è venuta una voglia pazzesca di provare a rifarli. Quindi oggi eccomi qui, sono andata al supermercato giusto poco fa e ho preso tutto l'occorrente che ho già messo sulla cucina. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e proviamo a realizzare insieme questi pancake giapponesi che sembrano molto molto soffici e super invitanti. Ed eccomi qui in postazione con il telefono alla mano per seguire passo a passo la ricetta perché voglio che esca davvero bene quindi incrociamo le dita. Per realizzare questi pancakes servono due uova come vi dicevo prima ho già preparato tutto qui sulla cucina e quindi le uova eccole qui. Tra l'altro con questa dose escono circa tre pancakes però dovete considerare che sono comunque molto molto alti rispetto ai classici pancake americani. Quindi per due persone secondo me sono più che sufficienti e seguirò la dose esatta però volendo potete raddoppiarla se dovete farla per più persone. Poi servono 25 grammi di zucchero che io tengo all'interno di questo contenitore che ho preso da Maison du Monde. Ve lo dico perché sicuramente in tante me lo chiederete. Poi servono 20 ml di latte che devo ancora misurare. 40 grammi di farina manitoba. Ho trovato questa al supermercato. E poi 3 grammi di lievito per dolci. Detto questo veniamo al procedimento e iniziamo questa ricetta. Che in realtà sembra a vederla molto molto facile però si sa mai. Come prima cosa bisogna separare i tuorli dagli albumi. Ho già preparato tutto, anche i vari strumenti di lavoro. E ho visto che lei prima di montare, o comunque di lavorare i tuorli con lo zucchero, come solitamente faccio quando preparo i pancake normali, lei prima lavora gli albumi. Quindi in questo contenitore più grande andrò a mettere gli albumi. Mentre in questo mio piccolo metterò i tuorli. Praticamente è il contrario di quello che faccio solitamente. Quindi iniziamo a separare gli albumi dai tuorli. Fatto questo dobbiamo andare a montare a neve gli albumi aggiungendo un po' alla volta i 25 grammi di zucchero che sono già andate a pesare. Quindi intanto i tuorli li teniamo un attimo da parte. Armiamoci di frusta e iniziamo a montare a neve gli albumi. Una volta finito di montare a neve gli albumi con lo zucchero bisogna passare ai tuorli. Però io guardando la ricetta noto già un piccolo problema in quanto lei dice di mettere un tuorlo alla volta, ma guardatemi i tuorli, si sono completamente lasciati andare, si sono uniti entrambi. Quindi andrò un pochettino ad occhio, metterò prima un po' di tuorlo e poi metterò l'altro. Per unire i tuorli vado ad aiutarmi con una spatola, in quanto questo passaggio lei lo fa a mano. Non utilizza più le fruste, quelle le ha messe da parte e quindi copiamo lei e utilizziamo anche noi la spatola. Quindi partiamo unendo un po' di tuorlo, direi che così può bastare. E andiamo a incorporarlo. E adesso vado a mettere il tuorlo rimasto. Ho notato che si sono fatti un po' di grumi, non troppi, però qualche d'uno ce n'è, fa niente. Adesso, se non ricordo male, devo andare ad aggiungere 20 ml di latte e poi la farina e il lievito. Sono già andata a pesare tutti gli ingredienti che mancano, ovvero il latte e la farina e il lievito, che ho già unito, perché comunque vanno setacciati insieme e aggiunti poi al composto. Quindi gli do una veloce mescolatina per amalgamare la farina e il lievito. Adesso riprendo il mio impasto, che rispetto al suo ho notato che il mio è molto più giallo, sarà colpa delle uova sicuramente. Comunque vado ad aggiungere prima il latte e poi la farina. Comunque non so perché, ma non sono convintissima della buona uscita di questa ricetta, perché guardando il suo video il composto sembra molto più denso. Sarà forse che non ho montato per bene gli albumi. Non so, mi viene questo dubbio, magari dovevo montarli un pochettino di più, ma poi avevo paura di montarli troppo e quindi andare a smontarli. Però guardando la sua ricetta, boh, mi dà l'impressione che il mio composto sia forse un tantino liquido, ma fa niente, noi ci proviamo lo stesso. Adesso vado ad unire la farina e il lievito. Forse anche questa lei la metteva un po' per volta, io l'ho praticamente già messa tutta. E vado a mescolare per incorporare anche la farina. Vediamo che magari con questa si addensa un pochettino l'impasto. Sicuramente va ad addensarsi, c'è guardate comunque giustamente avendo aggiunto la farina. Però noto anche che ci sono un po' di grumi, come dicevo prima. Mannaggia, lei non ne aveva neanche uno. Questo è il mio risultato finale del composto. Stavo riguardando le sue immagini e il suo video. E ripeto, il suo è molto più... sembra molto più fluffy e anche più chiaro. Quindi secondo me ho sbagliato fin dal principio, dovevo montare un po' di più gli albumi. Comunque basta, direi di fermarci qui. Adesso passiamo alla cottura. Ho messo la pentola sul piano, vado ad accenderlo. Ho visto che lei ha sporcato un po' la pentola con un po' di burro. E poi con la carta scottex vado ad assorbire un po' il burro. Perché è giusto, deve essere appena appena sporco. Anche se in realtà di solito io quando faccio i classici pancake, lascio la pentola al naturale. Non metto né burro né olio. Però seguiamo per bene la sua ricetta. Facciamo scaldare la pentola ancora un attimino, anche se sento che è già bella calda. Lei cuoce praticamente tutto il composto in una volta sola, utilizzando una pentola più grande. Io vado a step, quindi partiamo con un primo pancake. E tra l'altro lei il composto lo vado ad aggiungere con il cucchiaio da gelato, cosa che io non ho. E quindi mi aiuto con un mestolo e vado a mettere il composto sopra. Però il mio si è già lasciato andare, mentre il suo restava molto più, come dire, molto più compatto. Quindi non sono molto convinta. Poi una cosa che lei faceva era aggiungere un cucchiaio, un paio di cucchiai di acqua sulla pentola e poi va a mettere il coperchio. Quindi facciamo anche questo e mettiamo un cucchiaio di acqua qui e un cucchiaio, un cucchiaio, un pochettino di acqua anche qui. E poi mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per 5 minuti. Sono passati 5 minuti, quindi togliamo il coperchio e andiamo a girare il pancake. Che sì, in realtà sembra molto fluffy, però è uscito un tantino più grande rispetto al suo, perché il mio si è proprio lasciato andare, mentre il suo restava molto più compatto. Comunque aggiungiamo anche stavolta un po' di acqua sulla pentola. Rimettiamo il coperchio e lasciamo cuocere ancora per altri 5 minuti. Stavo guardando il mio composto e noto che è davvero molto molto giallo e troppo poco fluffy, diciamo così. Quindi voglio riprovare in questi giorni a rifarlo. Nel frattempo il primo pancake si sta cuocendo del tutto e mi sa che dopo, con questa dose, vado a fare due mini pancake più piccolini per vedere se riesco a farli un pochettino più alti. Perché la caratteristica principale dei pancakes giapponesi è quella di avere l'aspetto più che di un classico pancake. Alexa, basta! C'era il timer per il pancake, quindi lo vado a spegnere. Questo è il mio primo pancake, che in realtà ha l'aspetto di un classico pancake. Forse è un pochettino più soffice rispetto a quando li faccio solitamente. Li sento che è un attimo più soffice. Però non è come quello di Benedetta, assolutamente. Adesso comunque vado a fare gli altri due. Quindi stavo dicendo che la caratteristica principale di questi pancake giapponesi è quella di assomigliare di più a dei soufflé. Quindi sono molto molto alti e belli belli soffici. Cosa che invece non è il mio. Adesso comunque vado a finire l'impasto realizzando altri due pancake. E noi ci vediamo dopo, sperando che esca qualcosa di un po' più simile a quelli di Benedetta. Ovviamente adesso che non sto registrando, i tuorli non si sono uniti, ma sono rimasti perfettamente separati. Questo è un classico. Questa è la consistenza del secondo impasto. Mi sembra molto più densa rispetto al precedente. Adesso sto scaldando la pentola e poi facciamo la seconda prova, speriamo bene. Grazie a tutti. Questo è il primo pancake che mi è uscito con il secondo procedimento, nel secondo tentativo. mentre invece quelli sono i pancake che mi sono usciti la prima volta. Guardate la differenza. E quello che sta cuocendo adesso è ancora più alto. Sono molto più piccoli ovviamente perché per ottenere questa altezza, giustamente con la stessa dose, escono più piccoli. Però mi piacciono molto come sono venuti e sono contenta di esserci riuscita. Adesso vi chiedo di perdonarmi se avrò la mano un tantino traballante. Però ecco qua il pancake rispetto alla mia mano. È decisamente mio. Però guardate quanto è soffice e quanto è alto. Questo è il risultato finale. Sono molto soddisfatta specialmente di questo che è quello decisamente uscito meglio, se non quasi perfetto. È un po' piccolino ma secondo me questo è dato anche dalla dose. Se raddoppiate la dose potete ottenere dei pancake giapponesi ancora più alti e soffici. Comunque il consiglio che vi do è quello di tenere la fiamma molto bassa e di fare come ho fatto nel secondo tentativo. Ovvero mettere un po' di composto, lasciarlo cuocere 30 secondi, aggiungere un altro po' di composto e farlo per ben tre volte. Così riuscite ad ottenere un pancake un pochettino più alto. Adesso faccio la prova a saggio. Però nel frattempo si sono raffreddati un attimino quindi li metto giusto 30 secondi nel microonde. Questi invece sono i pancake del primo tentativo. Come vedete è un classico pancake americano molto più simile a una frittellina e anche più piatto. Mentre questo guardate è molto ma molto più alto e soffice. Essendo appena uscito dal microonde è anche bello bello caldo. Vediamo un po' com'è. E' davvero buonissimo ed è super super soffice. Adesso che viene di qua ste che è appena rientrato dal lavoro io lo faccio assaggiare. Vediamo cosa mi dice. Comunque il gusto è davvero ottimo caldo poi secondo me è ancora più buono. E con la nutella vabbè non ne parliamo. Com'è? Buono? A parte che scotta. Comunque questo è ancora più bello per quanto mi riguarda. E' un po' diverso dagli altri o non senti differenza? Andrò a tagliarlo e mettere un tela dentro. Sì però a livello di sapore senti differenza o no? Secondo te? C'è un chilo di burro giusto? Di burro non c'è? E dopo il momento assaggio che ci voleva proprio direi di chiudere qui il video fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avevate già provato a farli e come vi erano usciti. Se vi sono usciti bene fin dal primo tentativo oppure se come me avete dovuto provare a rifarli una seconda volta. In caso se le rifate dopo aver visto questo video taggatemi su Instagram o sommatemi anche la foto in direct che sono curiosa di vedere i vostri risultati. Medite un pollice in su se questa tipologia di video vi piace così magari ne farò altre più avanti. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video che caricherò. Un bacione e a presto. Ciao!